Tutti sappiamo che la salute è il bene più prezioso che abbiamo, però non sappiamo che i dati sanitari che noi produciamo tutti i giorni con i nostri dispositivi o con le analisi che facciamo, con le radiografie che facciamo e così via, sono un bene preziosissimo. Sono un bene preziosissimo per cosa? Per migliorare la nostra salute e per migliorare la salute di tutti noi, di tutta l'umanità del nostro vivere quotidiano. Allora io credo che quello che dobbiamo fare è iniziare a raccontare questo alle persone e questo possiamo iniziare a raccontarlo anche nelle aziende. Cioè affrontare nelle aziende e diffondere nelle aziende tra le nostre persone la cultura del dato, cioè la cultura dell'importanza dei dati che tutti i giorni produciamo e che se condivisi soprattutto i dati legati alla salute e anche perché no all'attività sportiva, possano contribuire a migliorare la vita di ognuno di noi e ad affrontare le grosse sfide che il ventunesimo secolo ci ha messo di fronte, quindi ad esempio le pandemie, ma anche l'antibiotico resistenza. Pensate che l'OMS ha previsto che nel 2050 ci saranno più morti per antibiotico resistenza che per cancro. Ecco, allora iniziare a parlare all'interno delle aziende dell'importanza di condividere i dati e quindi non soltanto di, come dire, regalare, perché è questo che facciamo tutti i giorni, regalare i nostri dati alle big tech, ma iniziare a donare i nostri dati per il bene comune e per il bene comune e la salute comune di tutti noi.